Benvenuti alla presentazione di Sabor Hotels. In questi pochi minuti vedremo come scegliere un albergo tra le opzioni disponibili in uno dei marketplace più grandi del mondo. Sabor permette di accedere ad una vasta gamma di contenuti provenienti dagli alberghi presenti in 214 paesi, disponibili anche tramite diversi aggregatori tra cui HRS. In questo modo avremo la possibilità di prenotare più di 175.000 strutture e oltre 300 catene alberghiere, tra cui più di 8.900 hotel eco-certificati, 30.000 appartamenti, 39.000 economi e 12.000 luxury hotel. Le tariffe sono aggiornate in tempo reale, comprese quelle aziendali e quelle negoziate, mentre la ricerca è effettuata direttamente nel sistema di prenotazione dell'albergatore, quindi la disponibilità è sempre garantita. Inoltre saremo sempre certi che le tariffe visualizzate sono le migliori disponibili, grazie al programma Hotel Rate Assured. Grazie ad un workflow perfettamente integrato, in Sabor è possibile creare una prenotazione hotel in meno di un minuto. Vediamo subito un esempio di come prenotarne uno in pochissimo tempo. Supponiamo di voler prenotare una notte in albergo a Francoforte per questo passeggero il 25 di marzo. Con un semplice comando ne chiediamo la disponibilità per la data richiesta, specificando che l'hotel debba trovarsi in centro. Come risposta del sistema avremo un elenco delle strutture disponibili secondo i criteri richiesti. Per esempio scegliamo il Crown Plaza. Con un semplice clic sopra il nome dell'albergo entriamo in una pagina grafica, tramite la quale possiamo vedere le mappe della località, le foto della struttura, come pure informazioni sulle tariffe, la policy ed altre utili informazioni. Con un altro clic passiamo a scegliere la tariffa di nostro gradimento. A questo punto, sempre col supporto di un'interfaccia grafica, andiamo a specificare i dettagli della carta del cliente, quale garanzia per la prenotazione. Cliccando su questo pulsante processiamo la vendita dell'hotel, la quale, come possiamo vedere processata in accesso diretto, cioè direttamente in comunicazione col sistema di booking dell'albergo. Infatti il codice di conferma ci viene restituito ancora prima di aver finalizzato la prenotazione. Ecco che in pochi secondi abbiamo prenotato e confermato un hotel in maniera rapida e intuitiva. In Seborov ovviamente è possibile effettuare una vendita hotel in diversi modi, a seconda dei propri gusti e necessità. Andiamo quindi a fare la stessa cosa in maniera più dettagliata in modo da vedere chiaramente gli step fondamentali del processo di vendita. Con il comando base HOT andiamo a specificare la località, Francoforte in questo caso. Chiedendo come data di check-in il 25 marzo, specifichiamo che ci serve una sola notte ed una sola camera. Andando a leggere risposta del sistema, avremo una prima colonna con le righe numerate. A seguire i codici delle catene, i nomi degli hotel, la distanza dall'aeroporto o dal centro città, la specifica se si tratta di tariffe negoziate o contrattuali, gli eventuali servizi disponibili. Un range di minimo e massimo delle tariffe. E infine un asterisco ci dice che queste strutture partecipano al programma Hotel Rate Assured. Al comando base possiamo ovviamente aggiungere dei qualificatori secondo le nostre esigenze. Ad esempio specifichiamo con una C che cerchiamo l'hotel vicino al centro città. Con una N regione aggiungiamo anche il nome della struttura. Per entrare a vedere la descrizione dell'hotel usiamo il comando HOD Display seguito dal numero di riga. Da questa videata abbiamo accesso informazioni testuali di vario genere. Dal codice identificativo dell'hotel, all'indirizzo a il numero di telefono, il rating e a seguire le tariffe disponibili. Quando entriamo nella descrizione di un hotel abbiamo la possibilità di accedere ad una app gratuita che si chiama TrustEU, tramite la quale possiamo visualizzare le recensioni lasciate dai clienti della struttura su oltre 250 siti internet, agenzie di viaggi online e social networks. Possiamo quindi vedere il rating, come pure i commenti e i consigli di vario genere per avere un'idea più attendibile del livello dei servizi offerti dall'hotel che ci stiamo andando a prenotare. Un grafico infine ci farà vedere in maniera analitica i vari livelli di gradimento suddivisi per tipo di servizio. Tornando alla descrizione del nostro hotel, continuiamo guardando le informazioni sulle tariffe. Oltre al prezzo possiamo vedere la polisi di cancellazione, se la stessa è rimborsabile o meno e se sono previste commissioni per l'agenzia. Dopo l'esposizione delle tariffe abbiamo a disposizione, sempre in forma testuale, informazioni sulla struttura quali l'airport shuttle, i parcheggi, se disponibili una piscina, piuttosto una sala fitness, il ristorante e così via. La petta e la family children policy, quella sui gruppi, la commissione riconosciuta, il dettaglio sulla polisi di cancellazione, quella sui depositi o sulla garanzia. Asseguiremo una descrizione testuale dettagliata sulla struttura stessa, nonché informazioni di carattere generale. Grazie. 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 Per finire, le carte di credito accettate come garanzia della prenotazione o come deposito. Tornando alla pagina iniziale, vediamo come entrare invece nel dettaglio di una tariffa. con il comando HRD display, seguito dal numero relativo alla tariffa di nostro interesse, possiamo avere accesso a informazioni quali il late arrival, la cancellazione, se la stessa è commissionabile, il costo per un extra person, quello del rollaway o quello della gulla. come pure ore di check-in e di check-out. Ma andiamo a vedere un altro modo di cercare un hotel in Sabor. Stavolta invece della città, vogliamo cercare una località specifica o un punto particolare di interesse, quale potrebbe essere Colosseo, la Torre Eiffel o altro. Con il comando HCCC, seguito dal codice paese e dal nome del punto di interesse, ipotizziamo che il nostro cliente stia cercando un hotel a Siracusa in occasione delle rappresentazioni classiche. Da questo elenco, eseguiamo il comando HOT display, seguito dal numero di riga, la data di check-in, il numero di notti o la data di check-out e il numero di camere. Apriamo quindi la disponibilità degli alberghi per la località desiderata. Scegliamo un albergo tra tutti questi, l'hotel Roma ad esempio, e stavolta usiamo invece la funzionalità grafica, il cosiddetto point and click, per accedere alle informazioni della struttura. Dalla mappa verifichiamo che l'hotel si trovi in una zona di nostro piacimento, il centro storico in questo caso. Quindi navighiamo all'interno delle foto della struttura per farci un'idea più chiara delle camere e della struttura in generale. Grazie. 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 A questo punto possiamo controllare le tariffe disponibili, sempre in forma grafica, possiamo leggere i requisiti della policy, informazioni testuali sulla struttura e sui servizi, una descrizione dettagliata delle camere, l'ubicazione esatta dell'hotel con le distanze dagli aeroporti e dai punti di attrazione delle vicinanze. Il parco archeologico, dove si trovano le rappresentazioni classiche, si trova a 1.9 miglia di distanza dall'hotel. Per finire abbiamo le carte di credito accettate dalla struttura. Chiudiamo il point and click per tornare alla videata della disponibilità. Entriamo stavolta nella descrizione dell'hotel utilizzando il comando manuale HOD display seguito dal numero di riga. In questo modo possiamo accedere all'alert app TrustU per leggere la recensione di chi ha visitato la struttura. Come detto precedentemente, abbiamo modo di vedere il rating, i commenti, le valutazioni di tutti quei clienti che hanno soggiornato in questo albergo prima di noi. Il solito grafico ci fa vedere in maniera analitica i vari livelli di servizi offerti, sempre secondo i giudizi espressi dai clienti. A questo punto possiamo passare alla ricerca della tariffa secondo le esigenze del nostro cliente. e tra quelle offerte dal sistema. Col comando HRD display scegliamo quella che ci sembra più adatta alle esigenze del nostro cliente. Controlliamo quindi in maniera dettagliata eventuali informazioni e costi extra. Se vogliamo passare alla vendita manuale, sempre in alternativa a quella grafica, del segmento TEL, il comando base, se ci desse sfuggire, ci viene ricordato dal sistema con questo dettaglio. Il comando da eseguire sarà quindi il seguente. 0H, il numero di camere, la croce di Lorena, il numero relativo alla tariffa, barra G a indicare la garanzia, il tipo di carta di credito American Express in questo esempio, il numero della carta, la data di scadenza ed il nome del titolare della stessa e quindi diamo invio. Non avendo i dati del passeggero ancora inseriti nella prenotazione, ovviamente la vendita non viene immediatamente confermata. Il sistema ci suggerisce quindi di inserire i dati mancanti e di seguire il comando 0RCF per reinviare la richiesta di conferma all'hotel. Andiamo quindi a richiamare il profilo del nostro cliente per inserirlo automaticamente nella nostra prenotazione con un semplice comando. Ricontrolliamo che ci siano tutte le informazioni necessarie, quindi i dettagli sulla tariffa ricevuti dall'albergo, i classici dati obbligatori del PNAR e tentiamo di chiudere la prenotazione. Sarà il sistema stesso che ci ricorderà di eseguire il comando 0RCF per sollecitare il codice di conferma dell'hotel. Quindi 0RCF è il numero del segmento. A questo punto possiamo passare a chiudere la prenotazione già confermata col classico E-invio. Andiamo adesso a richiamare la prenotazione per controllare che l'indirizzo di posta elettronica sia stato inserito correttamente dal sistema e in modo da procedere con l'invio dell'e-mail al cliente. Ci firmiamo e quindi col comando EMXP inviamo l'e-mail con un PDF in allegato. Andando a controllare la posta elettronica il cliente riceverà dall'agenzia un'e-mail con il proprio itinerario ed un PDF in allegato all'interno del quale è possibile vedere in maniera dettagliata tutti gli estremi della propria prenotazione. E-mail e PDF che l'agenzia può personalizzare con il proprio logo e con le proprie informazioni. Guardiamo un attimo in dettaglio le informazioni presenti. Tornando all'e-mail vediamo che il cliente ha la possibilità di accedere al sito tripcase.com sul quale se è già registrato può vedere la propria prenotazione in tempo reale con tutte le relative informazioni. Tra le varie prenotazioni attive scegliamo quella dell'hotel prenotato a Siracusa. itinerario inoltre che può essere condiviso con amici, parenti o colleghi nonché visualizzato scaricando la relativa applicazione gratuita anche sul proprio smartphone. in modo da essere sempre aggiornato sulle proprie prenotazioni ad esempio nel caso di cambio o cancellazione di un volo. Ma andiamo a vedere come possiamo approfondire l'argomento andando a cercare tra gli strumenti di formazione che Sabor mette a disposizione dei propri clienti. Entrando nel sito Agency e Services alla voce Formazione l'utente ha la possibilità di visualizzare una serie di opzioni tra cui il calendario mensile dei corsi online compresi ovviamente anche gli hotel e di iscriversi in maniera del tutto gratuita. Hai inoltre la possibilità di scaricare manuali guide rapide o per chi preferisce imparare da solo col computer o semplicemente perché non si ha tempo per partecipare ai corsi virtuali c'è la possibilità di installare anche l'applicazione gratuita Personal Trainer. Attualmente diversi fornitori sviluppano software che consentono le agenzie di viaggio di tenere tracce delle commissioni dovute loro dagli hotel e assicurare il relativo pagamento. Tra queste ricordiamo NetTrans che raccoglie e registra le commissioni alberghiere per conto dell'agenzia e le paga mediante un unico rendiconto mensile. Riconcilia e riporta le prenotazioni alberghiere il rapporto alle commissioni effettivamente ricevute. Per maggiori dettagli rivolgetevi al vostro account manager o visitate il sito Sabre Agency e Services. Ringraziandovi per la cortesa attenzione vi auguriamo una buona giornata.